Buonasera, buonasera amici miei, un ringraziamento innanzitutto perché vedo che i miei iscritti crescono e questo mi fa piacere, anche se devo constatare che crescono soprattutto dal momento in cui mi sto occupando anche di fare video calcistici, ma presto tornerò ad occuparmi di argomenti forse più seri, però stasera devo fare comunque un video calcistico sempre sull'Inter perché purtroppo la telenovela Inter, lo psicodramma Inter, sembra ci siano tutti i presupposti amici miei, perché continui, direte voi come mai, come mai e perché riallacciandomi al video precedente nel quale amareggiato mi dicevo adesso sicuramente ci sarà la difesa 3, sicuramente si farà il rombo comunque in tutti i casi, anche con la difesa 4 ci saranno comunque le due punte sui giornali leggevo in settimana, beh, rivoluzione Spalletti, Spalletti ormai cambia, stravolge l'Inter, eccetera eccetera sembrava che fossimo finalmente, dopo tanto tempo, alla vigilia di un cambiamento ovvero sembrava che il comandante di questa nave si fosse accorto delle falle che minavano la stabilità della nave e cominciasse o cercasse di prendere degli accorgimenti ora, ahimè, ahimè sembra che ciò non accada è come il bruciore di una ferita quando la ferita brucia all'inizio allora ognuno si lamenta poi magari, sa, si lamenta ancora di più perché c'è il bruciore del disinfettante, eccetera poi passa un giorno, passa due, passa tre, passa quattro e sembra che questa ferita non ci sia mai stata e settimana dopo settimana ci accingiamo alla prossima partita con la speranza che possa cambiare qualcosa e sembra che non cambi nulla che non cambi nulla nemmeno stavolta anzi, anzi, vi dirò che il rientro di Icardi ovviamente sarà un grosso punto interrogativo perché se egli riprenderà la via del gol e allora nessuno dice niente silenzio ma ove mai si continuasse a non prendere la via del gol certamente si comincerebbe a fare una canazza intorno a questo a questo fatto e poi leggo che addirittura riconfermate le due grandi ali Perisic e Candrevo perché giustamente dato che stanno in questa splendida forma da tanto tempo confermate al 100% e dietro di loro soprattutto quel genio che ovviamente sappiamo tutti chi è ma giusto per cronaca di Brozovic che è sempre destinato ancora una volta a stare alle spalle dell'unico solo isolato attaccato Rafinha ma Rafinha Rafinha forse giocherà un po' di più non credo che lo metta dal primo minuto altra cosa folle perché anche ammesso che Rafinha non abbia i 90 minuti e allora lo si va giocare dall'inizio e poi magari nel secondo tempo a un certo punto se ci si accorge di un cale evidente allora lo si cambia e invece non sarà nemmeno questo così io mi auguro di sbagliare ma non vorrei che per la nona volta come la nona di Beethoven noi assistissimo a una tragedia a uno spettacolo vomitevole ci sono tutti i presupposti io dico e spero che succeda all'improvviso qualcosa che magari vinciamo 5, 6, 7 a 0 come una specie di miracolo come una manna che piove dal cielo ma i presupposti sono gli stessi giocatori uguali presupposti uguali non gioco uguale in più per coloro che sono scaramantici ci sta anche una presenza inquietante ci sarà domenica pomeriggio una presenza inquietante sugli spalti distanziti io sono un animo illuminista quindi non credo a queste cose ma raccolgo e come il buon Edoardo di Filippo diceva non è vero ma ci credo sarà sugli spalti confermato la presenza di Eric Toiz Eric Toiz l'unico personaggio l'unico presidente che quando viene a Milano non riesce a vedere la propria squadra vincere ora o è sfortunatissimo lui o porta sfiga magari non si vestisse di nero tutto qua sempre nero dalla testa ai piedi dai capelli tinti fino alle scarpe allora proviamo a fargli mettere qualcosa anche di azzurro così fa magari nero e azzurro non tutto nero ma o egli è sfortunatissimo o porta sfiga io coloro che conosco sostengono 9 su 10 che porti sfiga e va bene quindi Spalletti non ha le palle purtroppo speriamo che ritorni la fortuna che vinciamo è uguale ma Spalletti non ha le palle perché si è fatto un cancan che doveva stravolgere cambiare rivoltare l'Inter come un calzino non l'ha fatto non è stato fatto nulla a Centrogram Presino Borja Valero Ovaiardini Rafinha entrerà l'unica notizia positiva di oggi è questo acquisto che è sempre certo ormai di Lautaro Martinez un ragazzo io mi sono un po' documentato un mezzo fenomeno dell'argentino del Zarsing 20 anni pagato 20 milioni e che dovrebbe arrivare io penso sarebbe un ottimo sostituto di Cardi che ce lo vendiamo prendiamo i nostri cento cento e qualcosa milioni ci mettiamo questo ragazzo che è eccezionale con il resto dei soldi costruiamo la squadra forse che qua si costruisce sempre e poi arrivato ad un certo punto si ha lo psicodramma annuale senza senza rimedio perché poi puntualmente l'allenatore sta lì è come se noi andassimo al cinema a vedere non so il Titanic e dicendo chissà se la nave affonda ma chissà se questa volta affonda non affonda questa grande nave da crocire spediamo alla fine affonda alla fine affonda perché quello è un film è già visto e noi ci presentiamo a vedere il film titolato Inter Bologna con gli stessi personaggi stesso regista stesso gioco stesso tutto ci affidiamo ai miracoli che debbono essere ancora più forti dello sfigato Eric Toil spero di sbagliarmi abbondantemente lo spero perché il mio cuore è in erazzurro spero di sbagliarmi porterò qualche amuleto porterò qualche amuleto domenica spero che serva ahimè la mia mente filosofica umanistica a che cosa si deve ridurre ahimè buonanotte siamo a poche ore ormai dalla partita vedremo un po' un po' un po' un po' un po' un po'